Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come In Matatarani sostituto procuratore sta diventando una fiction a dir poco seguitissima, anche nella sua seconda stagione E la cosa che ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan è che come interprete è stata scelta una bravissima attrice che però non è mai stata prima d'ora particolarmente conosciuta Il suo nome è Vanessa Scalera, ma quanto sappiamo di lei e della sua vita privata? È forse sposata o fidanzata? Ha dei figli? Quanto e che cosa sappiamo di preciso di Vanessa Scalera, la bravissima interprete del sostituto procuratore in Matatarani Vanessa Scalera, che sappiamo del suo privato? Chi è Vanessa Scalera, la protagonista della fiction in Matatarani, sostituto procuratore in onda su Rai 1? La serie tv è davvero amatissima dal pubblico italiano, così come l'attrice, ma di lei sappiamo poco per quanto concerne il suo privato che a quanto pare per lei come tale deve assolutamente rimanere La donna, pur avendo origini pugliesi, vive a Roma ed è molto ma molto riservata Si vocifera che sia fidanzata con l'attore Filippo Ghili, ma di ciò non si ha mai ricevuto una degna conferma, così come, a onor del vero, nemmeno una smentita Di lei si sa poi che è una grandissima appassionata di poesia e che apprezza moltissimo le canzoni del molleggiato Si è traferita dalla Puglia a Roma per studiare recitazione.Nata il 5 aprile del 1977, Vanessa Scalera è una delle attrici più amate del piccolo schermo La donna proviene da un piccolo paesino in provincia di Brindisi, ma ha lasciato presto la Puglia per avvicinarsi alla recitazione, il suo immenso amore E così, come abbiamo già poco fa accennato, si è trasferita nella capitale, dove ha studiato e frequentato moltissimo il teatro, esibendosi pure sul palcoscenico Tuttavia il grande salto lei lo ha fatto soltanto in un secondo momento, con il debutto al cinema Nell'arco della sua carriera, l'attrice ha lavorato al fianco di grandi registi come Marco Bellocchio in Vincere nel 2009 e Bella Addormentata nel 2012 Ha lavorato con Nanni Moretti in Mia Madre e a seguire è apparsa nel cast di Nome di Donna, Il Ladro di Giorni e L'Arminuta di Giuseppe Bonito Quell'anno ha dato il suo contributo anche a Diabolic, film dei Manetti Rose L'ultimo film che l'ha coinvolta nel 2022 si intitola Corro da te Deve la fama a Imma.in TV, prima di recitare in Imma Tataranni, sostituto procuratore che gli ha donato un'immensa fama, la scalera ha debuttato nel 2005 in Padri e Figli Dopo è apparsa in Donna Detetti, in RS Roma 2, Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia 11 e Squadra Antimafia, Palermo Oggi 3 In seguito ha recitato in L'Aquila, Grandi Speranze. Nel 2020, è entrata nel cast di Romulus, serie televisiva in onda su Sky Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video